Sì, certamente sono fatti che sono emersi combustioni che sono emerse già in passato per il Comune di Mascali, tanto che il Prefetto ne aveva ordinato lo scioglimento dell'amministrazione. Questi contatti quindi erano già emersi nell'ambito del procedimento relativo all'Aimeri Ambiente, in quel caso non sono stati provati con pienezza o non sono stati riconosciuti la nostra ipotesi con pienezza di esistenza di queste infiltrazioni. Ora dopo l'operimento dell'amministrazione e queste ulteriori indagini riteniamo di avere provato in maniera chiara la presenza di commissioni e di infiltrazione dell'amministrazione. Ci sono tante naturalmente avere la disponibilità di forti strumenti che ormai le amministrazioni hanno soprattutto in materia di inizia, in materia di concessione di appalti eccetera può avere portato dei vantaggi significativi. Noi abbiamo ritenuto in qualche caso consegna di denaro e in altri casi la partecipazione dell'attività imprenditoriale e di vantaggi che arriva avanti. Io credo che questa indagine sia ormai nella fase di chiusura. Grazie.